Italia sì, Italia no, Italia da rigore. A Siracusa il settebello vince la sfida amichevole con l'Ungheria ai rigori. Dopo il pareggio in rimonta, 10 a 10 nei tempi regolamentari, gli azzurri si tolgono la soddisfazione di realizzare tutti e cinque i tiri dai cinque metri. Il debutto olimpico sarà tra poco più di una settimana contro gli Stati Uniti. La sensazione è che l'Italia abbia idee chiare sulla tattica di gioco da utilizzare, mentre la precisione e l'armonia delle giocate stesse è ancora da perfezionare. Il CT Campagna può essere soddisfatto che l'Italia abbia concesso appena due reti ai Maggiari in parità numerica. Campagna può rallegrarsi del fatto che per due volte gli azzurri abbiano rimontato due o tre gol di scarto, ma il tecnico deve anche sperare che la percentuale di superiorità numeriche migliori. Il 3 su 12 a Siracusa è brutto. Ma è meglio così, c'è da lavorare e non c'è tempo per specchiarsi e compiacersi. Ci sono ancora tante cose da migliorare, però queste saranno le partite delle Olimpiadi dove tu puoi stare sotto tutta la partita e poi la puoi vincere per dei piccoli dettagli. Quindi benvengano queste partite perché dobbiamo imparare a non disunirci mai, a non esaltarci se stiamo uno o due gol avanti e lo stesso non deprimerci se siamo sotto perché queste partite saranno tutte così a gol a gol e molte finiranno ai rigori.